Quali carte comporranno il primo set di l'Orkana? Dove si potranno visionare in modo agevole? E per chi colleziona? Esisterà un modo per tenere traccia in tempo reale della propria raccolta? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Finalmente abbiamo tutte e 204 le carte che compongono The First Chapter, il primo set del nuovo TCG targato Disney e distribuito da Ravensburger. Grande novità quindi per tutti i tester che già dalle prime indiscrezioni sono andati alla ricerca di archetipi di deck per gettare le fondamenta sul lato competitivo. Mentre per quello collezionistico avere una lista di carte pronte per essere consultate di certo non farà male per tenere costantemente traccia della propria raccolta. Negli ultimi giorni a coronare il tutto è stata rilasciata addirittura un'app sia per i sistemi Android che iOS. Vi lascerò per entrambe le versioni i link in descrizione. E devo dire, è stata pensata proprio bene. Infatti nel video odierno andremo alla scoperta di questa applicazione, comprendendone i vari settori che la compongono e soprattutto a chi tornerà utile dato che attraverso di lei si sposeranno alla perfezione alcuni elementi che faranno trovare agli appassionati del terreno fertile che sarà pronto per essere coltivato al meglio. Prima di iniziare volevo invitarvi ad iscrivervi. Per voi è solamente un click, per il canale invece è molto importante. In questo modo crescendo si riusciranno a portare contenuti sempre più interessanti e ricercati. In più non dimenticatevi di seguirmi anche su Instagram e la pagina Facebook dove pubblicherò aggiornamenti riguardanti le varie uscite dei video e molto altro ancora. Troverete i link in descrizione. Grazie ancora in anticipo. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme cosa ci aspetterà all'interno dell'applicazione ufficiale del TCG di Lorcana. Andiamo a dargli un'occhiata. Una volta aperta l'app sul vostro cellulare vi ritroverete un libro con sulla prima di copertina il logo del gioco e la rilegatura che fungerà da barra di caricamento. Una volta che le pagine del tomo verranno dapprima sfogliate, aprendosi poi davanti a voi avvolgendovi in una luce bianca, vi ritroverete direttamente nell'interfaccia principale dove sarà possibile iscriversi per eventuali tornei organizzati dalle fumetterie della zona o accedere al catalogo sempre aggiornato dei prodotti già annunciati e rimanere aggiornati su quelli che arriveranno presto in mercato. Nella parte alta a destra della schermata troverete le impostazioni dove potrete scegliere la lingua che vi sarà più congeniale comprendere e selezionare alcune delle voci che potranno tornarvi utili in caso di perplessità e domande riguardanti Lorcana o visionare le informazioni legali valutando all'occorrenza anche l'app stessa. Nella categoria catalogo invece potrete finalmente visionare tutte le 204 carte appartenenti al primo set di questo GCC, The First Chapter, ed in più potrete selezionando uno qualsiasi degli elementi presenti indicare quante copie avrete in vostro possesso, potrete avere traccia di ogni progresso nella sezione My Collection, cambiare la rarità trasformando la carta da comune a foil cliccando semplicemente sulla barra riportata in alto tra le due diciture standard e foiled e ultimo ma non per importanza aggiungere qualsiasi personaggio, azione o d'oggetto presente nel primo set nella lista dei desideri da visionare all'occorrenza se troverete qualche altro appassionato che venderà o scambierà quello che vorrete con altre carte. In più cliccando su Search nella parte in basso a destra potrete impostare tutti i filtri che potranno tornarvi utili come il colore dell'inchiostro, la tipologia della carta, le sue abilità e quant'altro per individuare nel minor tempo possibile ciò che cercherete. Mentre nella sezione Lore Counter potrete letteralmente utilizzare un segnapunti digitale selezionando alcune impostazioni rapide prima dell'inizio di un match come ad esempio quanti giocatori faranno uso di questa zona dell'app ed il tema del counter disponibile in versione Light che riprenderà l'aspetto pergamenato della schermata di preparazione o Dark dove sarà presente la tipica ambientazione stellare dove il Great Illuminer troverà luogo. Quindi una volta selezionate tutte le caratteristiche che rispecchieranno le vostre esigenze vi basterà cliccare sul pulsante Start New Game per dare inizio al divertimento. Infine nella zona chiamata Learn si avranno tutte le informazioni di base per iniziare a muovere i primi passi come il luminario nel galattico mondo di Lorcana partendo da cosa sia quest'ultimo come prepararsi ad un match e molte altre informazioni che vi invito a scoprire per assimilare sempre più nozioni atte a migliorare la vostra esperienza ludica. E a proposito di ciò vi consiglio di dare uno sguardo anche alla puntata di TCG meno di 20 minuti dedicata proprio al gioco di carte collezionabili più atteso di questo 2023. Lo troverete cliccando sulla scheda appena apparsa in questo momento. Di certo ora che si ha la panoramica totale del set di archetipi di deck ne nasceranno a Iosa e attraverso questa app anche i collezionisti avranno un sistema pronto all'uso per avere sempre sotto controllo tutto ciò che servirà per completare al 100% questo primo capitolo. E voi avete già scaricato questa applicazione? E se sì come vi è sembrata? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.